Allora, continuiamo con le nostre lezioni. Professor Federico Infascegni, Università di Napoli, Federico II, Facoltà di Veterinaria, Alimentazione Zootecnica e Rischio Gel, risultati della ricerca. C'è l'operatore al computer, l'operatore al computer, grazie. Buongiorno, innanzitutto ringraziamento a professor Altieri per l'invito e poi l'invito è una manifestazione dalla quale sto imparando tantissimo perché è bello essere in un contesto multidisciplinare, in un contesto di scambiare idee anche diverse da quanto si fa invece normalmente stare con chi si occupa dello stesso argomento. Poi è piacere di vedere dal vivo il dottor Fazzuoli perché ci ha fatto inaugurare tutti e andare. La ricorda, vabbè, io sono già del settore, però tutti quanti, insomma, le porto sicuramente alla testimonianza di tutti quelli che conoscono, però, innamorati della trasmissione in particolare che era condotta da lei, per la tempo presente. Lei più volte ha fatto riferimento alla necessità e all'opportunità giustissima di non avere delle opinioni, ma di portare dei dati sui quali discutere. E' importantissimo. Quando si tratta di argomenti importanti, il mio modo di vedere è quello che tratterrò, che tratterrò, non bisogna avere delle idee preconcette e di essere convinti, come io ora dimostrerò dei dati che sono stati ottenuti dalla nostra sperimentazione nell'arco del primo decennio, ovviamente rinunziamo di così dare la verità, non abbiamo questa presunzione assolutamente, però abbiamo fatto qualcosina ed è non troppo, è vero che invece qualcuno che non ha mai trattato certi argomenti invece ha la presunzione delle opinioni che invece ritiene molto molto forte. Io non verò opinioni, darò dei risultati e poi ognuno se ne andrà a casa convinto di qualcosa che elaborerà da solo. Bene, allora, tutto quello che vi dirò è frutto di esperienze del gruppo di ricerca che è un onore di coordinare e del quale fa parte anche dei biotecnologi, perché ecco la necessità, come si richiamava prima, quando si opera in certi settori, appunto delle tecniche di biotecnologi, altrimenti parliamo di aria fritta. E questo è risultato in alcune ricerche che sono tutte quante pubblicate su di vista internazionale ad impatto alto per il nostro settore. Quindi non sono chiacchiere che vengono a dire, ma sono riconosciute dalla comunità internazionale. Se mi dice come... ecco, va bene, erano diverse quelle quali sono i problemi connessi con l'alimentazione degli animali, appunto quando si tratta di materie prima generiche e modificate. Fondamentalmente sono tre i punti che vengono presi in questa generazione che tanno una certa preoccupazione all'opinione pubblica. C'è corrispondenza tra un OGM e la sua controparte convenzionale in termini chimici e professionali? Il secondo punto è molto importante, molto più inquietante. Che fine fanno questi tratti trasgenici una volta che l'animale, ovviamente se la cosa è diretta l'uomo le ingerisce, e riguardo all'animale il terzo punto che è di riflesso c'è influenza degli stessi sulla salute degli animali e sui prodotti che poi essi ci forniscono e quindi sulla salute dell'uomo. Allora vedete la prima domanda, dico subito, che chiunque ha fatto un'analisi chimica di una... soia, genericamente modificata, o della sua controparte convenzionale, troverà esattamente una corrispondenza chimica incredibile. L'abbiamo fatto mille volte, sembra quasi provenire dalla stessa partita. Non c'è una differenza chimica. Segniamocelo questo fatto, perché poi è importante per un dato che vi farò vedere. Il destino dei frammenti. Bene, la letteratura quando abbiamo cominciato noi ad occuparcene, la letteratura internazionale, diceva che assolutamente non sarebbe stato mai possibile ripetere in qualsiasi liquido organico o tessuto di animali o di uomini che si fossero... che avessero appunto ingerito negli organici, diceva che non era possibile ritrovare tratti trasgenici quando le DNAsi, ovvero gli enzimi deputati alla digestione in sede e gastrica, ma anche intestinale, avrebbero fatto scomparire questi tratti. Bene, se vogliamo andare avanti, ora vediamo se tutto ciò è stato da noi confermato, perché chi fa ricerca non è che si ferma e ce l'hanno detto gli americani, pensano, facciamo qualcosa pure noi. E allora, un occhio a che cos'è che si inserisce in una pianta per trasformarla, per modificarla geneticamente, si inserisce a questa che viene detto costrutto genico o cassette genica, che costa di un gene strutturale che vedete in giallo, e quello là più importante è quello che conferisce la modifica. Per dirne una, le più importanti, per la soia c'è la resistenza al grifosate, che più volte oggi è stato richiamato, si rende resistente la soia al grifosate in modo tale da poterlo utilizzare per far fuori solo le festanti e la soia crescerà in maniera rigogliosa. Ecco, quindi produttivisticamente, ovviamente, si avrebbe un miglioramento. Nel caso del mais, invece, per esempio, le prime trasformazioni sono state quelle là di renderlo resistente all'azione della pirale, che è una farfallina, o sinia nubilalis, il nome è latino, che va a compromettere gran parte del raccolto andando a depositare la barba che poi a sua volta mangerà parte della spiga. Quindi, questo gene strutturale viene inserito nel genoma grazie ad un promotore che ne garantisce, appunto, l'entrata, un terminatore che ne finisce, praticamente, l'entrata stessa e molte volte si mette, chi fa in generale generale, si mette questo gene marker o reporter che attesta l'avvenuta trasformazione. Allora, vi prego di prendere, di ricordare queste sigle del gene strutturale EPSPS, perché è quello là riferibile, diciamo, alla soia resistente al grifosate e il P35S che è il suo promotore. Allora, abbiamo fatto, dicevo, una serie di sperimentazioni, se va avanti, non ricordo chi ci sa, ecco. Allora, una molto interessante è quella che abbiamo pubblicato nel 2010, non è mai stato già passato 5 anni, in cui abbiamo, prima del parto, due mesi prima del parto, abbiamo alimentato due gruppi di capre con una reazione che prevedeva in uno la soia genetica intermodificata e in altre invece la soia normale. Bene, quando siamo andati a fare i prelievi di latte, guardate, al punto zero c'è il parto, qui sono i prelievi di latte sulle ascisse, sono 7 prelievi a distanza di 20 giorni l'uno dall'altro e ogni 10 animali, che vedete appunto sulle ordinate, ogni 10 animali aumentava il numero di animali del gruppo alimentatico, la soia genetica intermodificata, che nel suo proprio latte presentava e l'EPSPS, il genere che conferisce la resistenza a plifosate e appunto il sopramodore. Come vedete, ovviamente nell'altro gruppo non abbiamo trovato nulla, quindi non era nessun inquinamento, quindi devo velocizzare tutto ciò che sto facendo. Qui abbiamo avuto la presenza del latte e pure fin all'altro nel latte, fino ad ora c'era stato detto che non sarebbe stato possibile, ma ovviamente quando gli animali hanno partolito noi abbiamo creato anche due gruppi di capretti, i capretti nati dalle mamme, chiamiamole genetica intermodificata, e gli altri quelli convenzionali. Bene, questi capretti sono stati alimentati per due mesi, solo con il latte materno, tutto quello dito sono sicuro che l'abbiamo fatto con le nostre mamme, quindi sono sicuro che hanno mangiato solo e soltanto quelle, guardate che cosa è successo, una volta sacrificati i capretti, mentre nel gruppo convenzionale, chiamiamo, non abbiamo ritrovato ovviamente nulla, invece, nel muscolo, nel rene, nel fegato, nella milza, nel cuore e nel sangue dei capretti alimentati con il solo latte materno, abbiamo ritrovato, in un numero variabile di soggetti, sia il gene che ha conferito la resistenza clifosante, sia il suo promotore. Non ci siamo fermati qui in quanto, in quanto, mentre comencevamo queste indagini, chi all'inizio c'era molto assaggiato dicendo non troverete niente, quando io cominciavo a mostrare che mi dà, guardate che forse qualcosa sta succedendo, diceva, ma cosa vuol dire una volta che ti ho mostrato questo? Probabilmente niente, soltanto per aver detto una bugia all'inizio, però ci siamo premoniti anche di fare altro, cioè siamo andati a verificare l'attività di alcune enzime a carico di alcuni organi e vedete che nei capretti, di qui sopra, a livello renale, a livello cardiaco, a livello muscolare c'era un'alterazione significativa, c'è un aumento significativo dell'attività dell'LTH, che per quanto riguarda il rene è soltanto della gamma GD. Gli suoi attività dell'LTH poi, anche a livello hepatico, presentavano appunto delle alterazioni, c'è un aumento dell'attività enzimatica che abbiamo anche fotografato con l'istochimica, quello di prima è l'LTH e questo invece è la gamma GD, nessuno di noi pensa sia un lettore di istochimica, comunque dalla vostra estrema destra ci sono, si dovrebbe vedere una terapicolatura più evidente che confermerebbe l'attività enzimatica più elevata. Se vuole andare avanti, farò vedere qualcosa che abbiamo fatto in vitro, che è anche molto interessante. Il primo punto che avevo detto era quello là dell'eventuale o meno corrispondenza chimica. Allora guardate, abbiamo utilizzato un mais convenzionale, un mais GM, sempre quello là resistente alla viralide, la cui composizione chimica, come vedete, è praticamente sovrapponibile, le stesse rotine, gli stessi grani, gli stessi grani. Abbiamo preso questi alimenti e separatamente li abbiamo incubati, se vuole andare avanti, in uno strumento semplicissimo che abbiamo utilizzato, il laboratorio, per verificare la fermentescibilità degli alimenti, cioè in che maniera fermentano e la velocità degli stessi. Nella bottiglina da sera che vedete là c'è il liquido luminale che, questo video sarà un momento che il liquido luminale non è un liquido installato così, ma è rinchissimo di batteri, di protozoi e di vicini che rielabora ciò che l'animale appunto è che il fluminante mangia. Quindi a contatto con un alimento ovviamente determina ne determina la fermentazione. Con un trastruttore di pressione misuriamo il gas che si viene a formare nello spazio di testa e misurando l'uso gas a diversi tempi ne misuriamo quindi la velocità di fermentazione. Guardate che cosa è successo come velocità di fermentazione per i due mais che chimicamente, stando alla tabella di prima, erano perfettamente omogenei. Se vuole andare avanti? Allora, non si vede benissimo ma il mais convenzionale è la curva che vedete sotto e quella invece più chiaro è il mais geneticamente modificato. C'è stata una velocità di fermentazione a parità chimica che ha delle incredibili. Io ho dimenticato di mettere in mezzo ai due andrebbe benissimo l'orzo. L'orzo è un alimento che noi nutrizionisti animali conosciamo come ad elevata fermentescibilità. Il mais invece è lento, quindi mais lento, orzo più veloce, il mais geneticamente modificato ha superato addirittura l'orzo. Questo che è successo? Che cos'è che è andato a essere modificato nella composizione chimica della stessa? Noi sappiamo che i cereali sono interessanti, importanti, veri illuminanti perché sono più importanti, perché apportano appunto l'energia sotto forma di amido e dalla struttura dell'anfium probabilmente si è presa più aperta, più disponibile all'azione dei batteri, e ne ha aumentato per dire la velocità. Beh, che cosa hai dimostrato così? Beh, dimostro che io come nutrizionista sono di fronte a un nuovo alimento, ma attenzione, prima di esserlo sono un consumatore e mi chiedo, ma se la resistenza, se la modifica richiesta al mais era quella là di creare la resistenza lateralide, chi gliel'ha detto di modificare anche l'amido? Cioè che cosa è successo? È successo quello che in, probabilmente è successo quello che in genetica viene è noto come effetto pleiotropico, che se tu tocchi il genoma ad un po' ad un zitto, non è detto che non avvengano delle alterazioni a siti successivi, a un po' a pausa. E che succede che si apre l'amido? Vabbè. C'è qualcuno che mi assicura che non succede altro? La stessa domanda l'ho posta in ambiti in cui lo presenti molti genetisti agrati, uguali, molto onestamente, non possiamo esserne certi. Cioè noi non possiamo essere certi che modificando una pianta succeda qualche altra cosa di sconosciuto. E questo dirò che è probabilmente dei altri dubbi. Ancora in quest'anno, quest'anno abbiamo pubblicato, un altro lavoro, sempre su una rivista dall'alto impatto, in cui alimentando sempre le nostre capre con la storia geneticamente modificata o meno, abbiamo riscontrato, se vuoi andare alla prossima, una diminuzione significativa delle immunoglobuline G del colostro. Guardate alla vostra estrema destra, il gruppo A erano i soggetti che prendevano la storia convenzionale, il gruppo B invece è quella da geneticamente modificata. Un croco delle immunoglobuline G nel colostro viene illuminante e devastante in quanto l'unica fonte di approvigionamento delle immunoglobuline, quindi di simulazione del sistema immunitario del neonato, è attraverso il colostro perché la loro placentazione non prevede il passaggio materno fetale. Abbiamo pubblicato anche questo altro dubbio grosso quindi che ci viene. Ma se io poi, se può prendere avanti perché non vedo niente, ecco, se io poi termino così dice, mamma mia, e allora noi, come diceva che cosa dobbiamo fare, dobbiamo dare delle alternative perché altrimenti facciamo un ente terrorismo. Bene, allora abbiamo pubblicato questi altri due lavori, in cui quando lì sotto avrei visto la sostituzione del mais con altri insilati nell'alimentazione delle bufale da latte, e dico subito che non è cambiato nulla né da tutto in vista produttivo, quindi quantitativo che qualitativo del latte, quindi si può fare benissimo almeno. L'abbiamo fatto sia con l'orzo che con il sorbo. Il sorbo e l'orzo non prevedono l'irrigazione che prevede il mais, abbiamo avuto un risparmio di acqua incredibile. 8 irrigazioni per il mais, una per il sorbo, una per l'orzo, e le produzioni anche sul terreno sono state solo leggermente inferiori al mais, quelle per ettaro, ma poi gli animali ci hanno prodotto ugualmente bene, la stessa cosa, non è cambiato nulla. Quella invece di sopra è pubblicata su Meat Science, che è una delle riviste forse la più importante al mondo che si occupa di carne, abbiamo sostituito come fonte protege nella razione di dell'unico falini alla soia, il falino, che tra l'altro è una luminosa di quelle buonissime perché c'è di azoto al terreno e quindi evita tanto input di azoto chimico. Bene, l'accrescimento degli animali è stato uguale e soprattutto la qualità della carne è stata la stessa, perché sento dire senza soia non si può fare zootecnica, non diciamo sciocchezza, si può fare, si può fare bellissimo. Ma l'ultima cosa che invece voglio mostrare a proposito di possibili alternative è quanto è uscito fuori da un PSR della regione campana. Prima giustamente si parlava, ci riconosco per la guerra dei fuori, ma non siamo soltanto quelli, facciamo anche qualcosa di molto molto bello. Questo è il latte nobile, perché si chiama nobile? Non è un marchio commerciale, ma è un nome che gli abbiamo dato per la nobiltà delle caratteristiche che presenta. in, dicevo, un PSR, ora è una realtà nella nostra regione, ma non soltanto, c'è anche addirittura in Piemonte, l'ho fatto prima dove poi i Piemontesi l'hanno preso, una cosa tante, insomma, che ci hanno ricordato. E a Napoli sembra quasi un soggetto, un oggetto caldo, praticamente, chi non beve latte nobile, insomma, non è, non fa parte della buona società napoletana. Cosa abbiamo previsto per disciplinare questa, di questo latte? Innanzitutto l'assenza degli OGM, beh, non potevamo, ovviamente, spugge andare noi stessi dopo quello che avevamo trovato, sempre che non siamo dei costiari della verità, e però qualche dubbio ce l'abbiamo. Poi abbiamo previsto che gli animali vengano alimentati non come si fa, dove il professor Altieri che mi ha chiesto di insistere sull'allevamento non intensivo, l'abbiamo incontrato, nell'allevamento intensivo, i foraggi oramai sono ridotti al 35-40% della reazione. Noi abbiamo completamente ribaltato il tutto, c'è scelta un'altra alimentazione come dovrebbe essere il nostro modo di vedere, e perderanno, c'è il 70% del foraggio e il 30% appunto di concettrazione, se per i cosiddetti immagini. Ma la cosa più importante è non una erba, non la monocultura, ma più erbe, la necessità, la possibilità che l'animale sia in mente non tutto l'anno con la stessa reazione. Bene, se guardate, non si vede molto bene, ecco, ma se guardate i dati che sono usciti da questo latte, sono eccezionali, guardate soltanto il rapporto omega 6, omega 3, vedete, in quest'ultima riga, in medicina umana viene detto che perché un alimento sia favorevole alla salute umana, in particolare nel brato cardiovascolare, il rapporto omega 6, omega 3 deve essere 5 o leggermente inferiore, o inferiore a 5. Bene, noi il latte di alta qualità delle diverse marche effettivamente l'abbiamo trovato pari a 5, quindi non è che stiamo guardando di cose che fanno male, ma guardate il latte nobile, 2,65, si è dimezzato. Questo grazie alla presenza dei precursori, degli omega 3 in particolare, nel pascolo soprattutto, o comunque nei foraggi provenienti da questi, se sto parlando del filo, capito? Quindi se tu dai a mangiare un animale bene, tu ritrovi quella cosa salutare, la ritrovi del prodotto che puoi aver mangiato. L'ultimo rigolo là è il CLA, che cos'è il CLA? I medici lo sanno, è l'unico acido grasso, ovvero l'unica serie di acidi grassi cui viene riconosciuta una azione antitumorale. Attenzione, si torna nel rubile, la ritroviamo nel latte dei derivati e nella carne dei derivati, ed è ad azione antitumorale. Visto che sta succedendo questo poco ultimamente, teniamo presente che quando andiamo a acquistare una bottiglia di vino, noi non diciamo voglio del vino, voglio quel vino, anzi, non so pure la tipologia, voglio l'etichetta perché mi dà fiducia. Acquistare latte, acquistare carne, devo dire anche questo, non esiste il latte, non esiste la carne. Che latte, che carne, da dove proviene, cosa hanno mangiato gli animali che ce ne hanno prodotti, questa è una cosa molto, molto importante. Ma tutto ciò, scusate, mi dicevo il contenuto in CLA è già doppiato nel latte nobile rispetto all'alta qualità, ma tutto ciò dovrebbe restare ancora nell'ipotesi, nella possibilità, probabilmente farà bene questo latte nobile e quindi l'altenobile come per esso tutti i prodotti di animali alimentati per bene. Abbiamo quindi fatto un'ulteriore sperimentazione in stretta collaborazione con colleghi nutrizionisti umani. Questa è stata accettata su Nutrition Metabolis per Cardiovascular disease, una delle massime, delle più importanti di liste di medicina umana, di nutrizione umana, che è stato accettato così. Allora abbiamo somministrato il latte, abbiamo utilizzato tre gruppi di lati, perché il latte ricorda molto vicino al metabolismo umano, non potevamo utilizzare i nomi direttamente, perché? Bene, allora tre gruppi, un gruppo ha avuto solamente una vita a controllo, quella era la base dei lati, un altro a questa vita è stato aggiunto del latte, vedete è stato aggiunto del latte a questa qualità ad un altro gruppo aggiunto del latte nobile. mentre non ci sono state differenze nella composizione corporea, non andare avanti, né nella distribuzione energetica, si può andare avanti. La differenza notevole non si vede nei colori, ma io l'avevo messo molto chiaramente in evidenza. Guardiamo le ultime tre righe, la terz'ultima e la prima ultima rappresentano le citochine pro-antiammatorie che sono significativamente diminuite nel caso dell'aggiunta del latte nobile. L'ultima invece è la citochina anti-infiammatoria che è significativamente aumentata, questo grazie al rapporto omega 6 e omega 3 notevolmente abbassato dove abbiamo trovato. Ancora, se vuoi andare avanti, prima... ancora avanti, ancora avanti... il collega... ecco, guardate l'incorporazione dei vidi nell'epatocita, uguali nel gruppo alla vostra estrema destra, che sarebbero quelli là che sono stati alimentati con il latte nobile e diventano uguali a quelli della dieta standard, ma nettamente minore rispetto a quelli dell'arte alta qualità. Eppure, in tutte e due case, c'è centrale e destra, c'è stata una aggiunta energetica, e c'è una vita base più di anni che nel latte nobile. Ci si sarebbe aspettato di avere più di vidi. Invece no, abbiamo una migliore, una più efficiente respirazione mitocondriale, che è stato tutto riportato, perché praticamente è una migliore incorporazione di vidi e vatici. Se vuoi andare infine, perché il collega... Viacerra aveva parlato prima dei radicati liberi, bene, guardate i gradici a destra, la incorporazione di radicati liberi è nettamente minore nel caso del latte nobile e invece significativamente maggiore è l'attività dell'enzima, diciamo, delle agonitasi che serve un sistema enzimatico di membrane che quindi garantisce la cellula della azione dei radicali liberi stessi. Allora, oggi è, ma non oggi è, ma è intensivo o non è intensivo, io sono convintissimo che quanto più, lo diceva anche l'altro, quanto più l'uomo rispetto alla natura, ci rispettiamo, e insomma, probabilmente i risultati si hanno e speriamo di continuare in questa direzione. Grazie.